3 milioni e 225 mila euro ai comuni e alle scuole per i servizi di menza e trasporto, per la convittualità degli studenti e per la partecipazione alla spesa per i libri di testo. Li ha stanziati il Consiglio regionale che nei giorni scorsi ha approvato a maggioranza, contrari i consiglieri del Movimento 5 Stelle e Romaniello del Gruppo Misto, il piano regionale per il diritto allo studio anno scolastico 2014-2015. In attuazione della legge regionale numero 21 del 1979, il piano finanzi e interventi atti a rendere effettivo il diritto allo studio, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e socio-culturale che limitano la frequenza e l'assolvimento dell'obbligo scolastico e concorrendo all'elevamento dei livelli di scolarità nella prospettiva dell'educazione permanente. Sulla base di un emendamento presentato dal consigliere Romaniello del Gruppo Misto, è stata aumentata la soglia del contributo massimo annuo per ogni studente, che sarà di 1200 euro per le spese di convitto e 800 euro per le spese di semi-convitto. Ha approvato anche un emendamento proposto dai consiglieri Spade e Santarsiero del PD, con il quale si stabilisce che il servizio di trasporto e di mensa debba essere garantito anche alle scuole paritarie.